il titolo è soldi domina il gioco. È importante rendersi conto di questo che comunque raggiungere una libertà finanziaria, saluto anche Vin Dreams, è comunque importante perché i soldi diciamo fanno parte di quello che Maslow chiamava come sicurezza, i bisogni di sicurezza. Ci sono persone che indipendentemente da quanto guadagnano non sanno gestire i soldi, invece ci sono dei passi diciamo che si possono fare per imparare a gestire i soldi. Gestire i soldi richiede, diciamo acquisire la libertà finanziaria richiede due elementi fondamentali. Gli elementi fondamentali sono da un lato guadagnarli i soldi e dall'altro diciamo investirli, accumularli, insomma farli diventare un patrimonio. Intanto salutiamo Vince, Lulu, un po' di persone che si conlendono. Ovviamente queste due cose devono essere presenti entrambi perché tu puoi essere come dire tra virgolette un ottimo risparmiatore ma come dire guadagni poco e quindi ovviamente risparmiare sul poco porta pochi vantaggi diciamo. Sicuramente già il fatto di non farsi dei debiti è il primo punto, quindi il primo suggerimento ovviamente è quello di non indebitarvi perché il sistema dei debiti che è stato creato è proprio un sistema nefasto che ci impedisce di essere liberi perché nel momento in cui tu inizia a farti qualche debito o il mutuo per la casa, c'è gente che fa rate per fare tutto, per comprarsi la macchina, per comprarsi la casa, per comprarsi la vacanza, per comprarsi il vestito, non lo so, c'è gente che fa debiti, che fa rate per tutto. Ecco questo è assolutamente sbagliato. Dove dovete concentrarvi, non si tratta di diventare ricchi, salutiamo anche Andrea Giovan, Iliana, Eleonora, non so, non si tratta di diventare ricchi, si tratta di acquisire libertà finanziaria. Libertà finanziaria vuol dire riuscire a soddisfare le proprie esigenze e cercare di accumulare un patrimonio. Ora, accumulare un patrimonio, grande o piccolo che sia, ha una valenza che può dare una sicurezza, che può dare una sicurezza e comunque ti toglie molto stress perché le persone che sono sempre che non sanno come sbarcare il lunario, beh, hanno poche possibilità. Beh, comprare una casa in contanti non è facile ma è possibile. Quindi io suggerisco a tutti prima troviamo i soldi e poi compriamo la casa. Questo è il suggerimento che do senza fare nessun mutuo. Quindi come possiamo fare? Quindi la prima cosa è, diciamo, quella da un lato di imparare a guadagnare i soldi e dall'altro imparare a spenderli. Beh, il mutuo è un investimento ma è un investimento comunque a rischio, è un debito comunque. Nel momento in cui tu hai un debito sei panato. Ripeto, la cosa fondamentale è quella di trovare un sistema che faccia guadagnare, che faccia guadagnare più della sopravvivenza. Ma il problema non è guadagnare. Uno dei problemi è guadagnare. Ma il secondo problema è non spendere. Questo è l'altra cosa. Il secondo, ecco, un'altra cosa, evitate di prestare soldi, appunto. Quello che dice Noemi, evitate di prestare soldi perché i soldi vanno prestati soltanto esclusivamente. Diciamo, se hai un parente, un figlio, eccetera, se no, non prestate soldi a nessuno. Perché se prestate soldi a qualcuno, poi questo probabilmente magari avrà difficoltà a restituirvi. Quindi il suggerimento è evitate di prestare soldi a tutti, a nessuno. Allora, quindi quello che si può fare fondamentalmente, ma io non sto dicendo di non comprare la casa, sto dicendo di comprarla, ma non comprarla tramite un mutuo, comprarla cash, cioè prima accumulare poi. Allora, la cosa è ovvio che richiede magari un po' di sacrificio, no? Perché è ovvio che l'affitto non guadagna. Dipende come vuoi vivere. Certo che se i guadagni non sono alti, qualche sacrificio va fatto. Intanto diciamo questo, che in funzione di quello che si guadagna, in funzione di quello che si guadagna, e poi vedremo come fare, secondo me, per guadagnare meglio, ma poi ognuno deve trovare il suo sistema. Ma non è tanto il guadagno quanto spendiamo. Perché uno potrebbe guadagnare 10.000 euro al mese, ma se ne spende 9.900, mettiamo che non si faccia debiti, a questo gli resta niente, gli restano 100 euro al mese. Quindi non è il discorso, non è il discorso, perché bisogna fare un sacrificio iniziale, ma non è proprio così, non è proprio così. Ma no, è assurdo, fare un mutuo trentennale è assurdo. È assurdo, è assurdo. Fare un mutuo trentennale è assurdo. Intanto bisogna imparare a spendere il giusto, e per un po' dovrai anche fare dei sacrifici. Certo è che se guadagni 1.000 euro al mese, non c'è niente da fare, diciamo, no? Perché se uno guadagna 1.000 euro al mese, 1.200 euro al mese, anche per quanto possa risparmiare, non riuscirà mai a fare niente. No, se mi lasciate parlare, intanto non rispondo più le domande, perché dite cargate, cioè che devo fare? Allora, il problema è, da un lato, trovare un sistema per guadagnare sufficientemente, in modo sufficiente, ma non solo per comprarti la casa, ma per far crescere un patrimonio fondamentalmente. Quindi, intanto saluto anche World Mall. Primo punto fondamentale, evitate di fare debiti con le banche, e parlo di banche, perché le banche comunque sfruttano, e poi non soltanto le banche, ma diventi ricattabile. La cosa fondamentale è quella di non lasciarsi prendere dalla frenesia quando uno ha imparato a guadagnare, perché ripeto, mettiamo che uno guadagni 10.000 euro al mese, non importa, deve spenderne 9.000, cioè deve risparmiarne 9.000, cioè per un po' bisogna fare un po' di sacrifici, questo è qualcosa di fondamentale. Allora, quindi il tenore di vita, ma se voi prendete, adesso mi viene in mente forse Jeff Bezos o un altro straricco, che aveva un tenore di vita molto basso, ma anche Bill Gates, il tanto vituperato Bill Gates, ha come non ha un tenore di vita così, cioè poi è ovvio che se uno arriva ad avere miliardi su miliardi su miliardi, certo che il suo tenore di vita, però le entrate bisogna fare, è capito, dipende dalle entrate, ma non solo dalle entrate, dalle uscite. Ci sono personaggi, e sono tanti, che guadagnano molto bene. Mettiamo un dentista affermato, o un imprenditore affermato, che può guadagnare tanto, ma entra in uno stato in cui, entra in uno stato in cui, entra in un ciclo in cui spende. Quindi la cosa che dovete, non è che ti stai facendo prendere dal po' del mutuo? No, ma io non ho questo, io oramai sono anziano, quello che devo spendere, quello che devo comprare ho comprato, Liana, oramai non ho più, non è più il mio caso, io ho tutto quello che mi necessita e non è più il mio caso, non è che devo acquistare nulla io. Ma io non ho nessuno, non sto facendo un discorso personale, quindi non sto facendo un discorso personale. Per me non ci sono, non sono proprio io, sto facendo un discorso in generale, soprattutto per i ragazzi giovani. Io oramai quello che devo fare ho fatto, insomma, sono arrivato a un punto della vita in cui, ecco, il discorso è quello, quando uno arriva over 50, diciamo, se non si è realizzato over 50, ce l'ha praticamente in quel posto. Io sto parlando soprattutto per i ragazzi giovani, non per me, neanche per voi malgacione. Ecco, una cosa che voglio dire, se uno arriva oggi over 50 e che non ha, non si è acquistato una casa, non ha i soldi per tirare avanti, poveraccio, le possibilità sono belle che andate, perché, come dire, uno degli obiettivi di una vita, sicuramente, è quella di avere anche una realizzazione economica. E se sei arrivato a 50 anni che non ti sei realizzato economicamente, sarà difficile farlo dai 50 in poi. Sarà difficile farlo perché dai 50 in poi è difficile. Ma non si tratta di essere ereditiero, si tratta di, diciamo, imparare a gestire, e si tratta di imparare a gestire e a guadagnare. Quindi un ragazzo giovane, quindi parliamo di un ragazzo giovane, quello che dovrebbe fare intanto è cercare un lavoro che corrisponda alla sua passione. Perché nel momento in cui tu fai, e fare anche magari più di un lavoro, perché se tu fai un lavoro, se tu fai un lavoro... Ma io non c'entro niente, Noemi. Io non c'entro... Ripeto, non sto parlando per me. Io non... Io oramai quello che devo fare ho fatto. Sto parlando per persone più giovani, perché è ovvio che se tu sei arrivato a 50... No, soprattutto se uno è arrivato a 50 anni e non ha realizzato una professione. Perché a 50 anni non è che ti puoi improvvisare. Certo, poi la botta di culo ci può anche essere, no? Quello che a 50 anni compri un biglietto la superanalotte lo vince. Però uno, diciamo, una volta terminati gli studi, diciamo, dei 25 anni in poi dovrebbe imparare a realizzarsi anche economicamente e professionalmente. Per carità c'è chi si improvvisa anche a 60 anni. C'è, ad esempio, la storia famosa del colonnello, adesso non mi ricordo che si chiamava, quello che ha inventato, diciamo, del colonnello che ha inventato il pollo fritto, diciamo, e a 60 anni in poi ha creato poi una catena in franchising e è diventato milionario partendo da 60 anni in avanti. Ma questo è un caso, è un caso semplice. Questo è un caso semplice. Altro errore grave è sperare nei soldi degli altri. E questo purtroppo lo fanno molte donne, no? Questo è un altro grave errore. Cercare di, come dire, contrabbandare la bellezza, se vogliamo, qualcosa con i soldi degli altri. Le donne che cercano sistemazione e questo vuol dire entrare nella schiavitù. Quindi è un errore grave di cui le persone poi si pentiranno tutta la vita. Quello di sperare nei soldi degli altri è un grave errore. Quindi, esatto, a 50 anni uno dovrebbe essersi realizzato e, diciamo, godersi la vita. Iniziare a lavorare di meno, diciamo così. A 50, 60 anni dovrebbe iniziare a lavorare di meno. Ma deve essersi realizzato professionalmente. Ora, quindi, i parametri sono due. Da un lato guadagnare, dall'altro spendere il giusto. Non spendere in proporzione al guadagno. La spesa deve essere una costante cappa. Cioè, se un ragazzo giovane vive con 1000 euro al mese, deve spendere 1000 euro al mese. Sia che ne guadagna 1500, sia che ne guadagna 10.000. E questo è il concetto fondamentale, no? Perché la spesa deve essere sempre X. Quindi vuol dire che bisogna, per un po' di anni, perlomeno, gli anni della gioventù, non gli anni della vecchiaia, ovviamente, avere un tenore di vita che non sia un tenore di vita allineato al guadagno. Cioè, il guadagno deve essere molto superiore al tenore di vita. Perché, ripeto, poi uno può anche fare fatalista. E guadagno 1000, spendo 1000, guadagno 2000, spendo 2000, guadagno 10.000, spendo... spendo 10.000, eccetera, eccetera. Ecco, altro fatto fondamentale, altra cosa fondamentale, è trovare un lavoro che ti dia passione. Questo è il punto fondamentale. E questo lo dico veramente ai giovani, ma lo dico a tutti, in realtà. Trovare un lavoro che ti dia, che ti piaccia, che ti dia passione. Perché in quel modo lì tu non lavorerai mai. Cioè, se, per dire, se la mia passione è fare video, cioè io non lavoro facendo video, mi diverto, no? Quindi, se tu riesci a trovare un lavoro e ci devi riuscire, magari inizi, diciamo, in uno stato... Salutiamo anche Green Apple. Magari inizi, inizialmente, anche, diciamo, trovando qualcosa che magari non è il meglio. Però poi puoi ottenere il meglio iniziando, diciamo, a dominare il gioco, fondamentalmente. Iniziando a, diciamo, a fare le scelte giuste. E fare le scelte giuste vuol dire che non bisogna, ad esempio, fare le scelte delle banche. Perché le banche, tenete presente che sono nate per guadagnare l'oro, non per far guadagnare i clienti. E quindi, chi si indebita con le banche, alla fine, comunque, farà guadagnare le banche e non guadagnerà sicuramente lui. Quindi, bisogna fare il primo passo. I soldi che cosa sono, di fatto? I soldi hanno il potere di suscitare emozioni, no? Perché sicuramente danno sicurezza. Per alcuni i soldi sono sicuramente vitali, sono importanti, ma non sono essenziali. Sono semplicemente uno strumento. Uno strumento che deve servirci per darci sicurezza e per, diciamo, strutturare nel tempo, per quanto sia possibile, un minimo di tranquillità. Perché comunque ti danno la tranquillità. persone che sono sempre, diciamo, a corto di soldi, fanno, diciamo, una vita di merda. E non si possono concentrare su altro. Ad esempio, avere una sicurezza economica anche può essere utile per effettuare un percorso di crescita personale. Perché è evidente che se tu non hai autonomia, non hai la sensazione di essere autonomo, non hai la sensazione di essere libero, non hai uno stato di sicurezza, tu passerai il tempo a, diciamo, tu passerai il tempo a, come dire, a cercare di sbarcare il lunario, ma ti perderai la possibilità di concentrarti su altro. Quindi i soldi devono essere utilizzati per darci la sicurezza di fare, di fare la cosa che ci piace, fondamentalmente. Beh, i soldi possono essere una droga quando tu sacrifichi la tua vita per farli. Ma la cosa fondamentale è questa, imparare, questo è il primo punto, imparare a fare esattamente quello che ti piace. Se tu riesci veramente a trovare, a fare qualcosa che ti piace, è ovviamente only the brave, un po' devi rischiare. Non puoi, diciamo, come dire, fare l'impiegata al catastro 40 anni se fare l'impiegata al catastro non ti piace. Perché se tu, ecco, questo è il suggerimento, come fare a fare soldi? Fai quello che ti piace. Perché se tu fai veramente quello che ti piace, ovviamente devi essere una persona che può avere, diciamo, un minimo di creatività serve. Io non credo nella bacchetta magica, non credo che, certo, ci sono persone che hanno idee migliori degli altri, ma se una persona va alla ricerca, ad esempio, costantemente di un posto fisso da 1000 euro al mese, col posto fisso da 1000 euro al mese non ti togli, non hai possibilità, no? Perché, ed è quello che vogliono, è quello che vuole il sistema. Ti do il minimo per farti vivere, ma tu non hai, ma tu non hai, diciamo, ma tu non hai nessuna possibilità di accumulare nulla. Ora, accumulare non per il fine di accumulare, ma per il fine di avere una sicurezza. Per avere una sicurezza, e per avere una sicurezza però senza doverti rovinare la vita per accumulare soldi, perché è ovvio che se una persona si rovina la vita, passa 40 anni di merda a fare delle cose che non gli piacciono, beh, questo non c'è moneta che lo appaghi, no? Perché è ovvio che se tu fai qualcosa che non ti piace, puoi guadagnare tutto quello che vuoi, ma fai una vita di merda, e allora meglio essere povero e fare una bella vita piuttosto allora. Quindi, però, è ovviamente meglio, diciamo, crearti un'indipendenza finanziaria facendo quello che ti piace. Quindi, la cosa importante per guadagnare è trova quello che ti piace, perché le persone lavorano, ad esempio, per il fine settimana. Ci sono persone a cui dici, come va, come va, se è lunedì ti dice, va male perché è lunedì, c'ho tutta la settimana lavorativa davanti, ah, va bene perché è venerdì. Cioè, il fatto di lavorare, come dire, vedere il lavoro come una spada di Damocle, vuol dire che tu farai una vita di merda, farai una vita di merda, e non guadagnerai neanche perché il tuo inconscio si ribellerà contro di te. Cioè, tenete presente questo, noi riusciamo a raggiungere il successo quando facciamo qualcosa che ci piace, quando facciamo qualcosa che ci piace. Quindi, la prima cosa è fare veramente qualcosa che ti piace, fare qualcosa che ti piace. Perché se tu fai qualcosa che ti piace, diciamo, non stai lavorando, stai semplicemente passando il tempo in modo positivo e il tuo inconscio ti aiuterà ad avere successo. Questa è una cosa fondamentale. Sarà il tuo inconscio che ti aiuterà ad avere successo. Se a te piace fare la pizza, farai il pizzaiolo, sarai il miglior pizzaiolo di Roma. Verranno le persone, tutti a mangiare la pizza da te. Se tu fai, che ne so, ti piace fare qualunque cosa ti piaccia fare, se tu la fai, diciamo, con passione, avrai successo in quella cosa che fai. Diventerai direttore generale. Anche se ti piace lavorare in un'azienda, se uno è veramente... Se ha successo, diventerà il direttore generale, diventerà l'amministratore delegato. Non sarà il fattorino. Il fattorino in azienda lo diventa quello che non gli va di lavorare in quell'azienda. Ma altrimenti diventerai, riuscirai ad avere successo. È ovvio che però, quindi, una volta che tu hai successo nel tuo campo, sia che tu fai il pizzaiolo, sia che fai l'Italia... Perché se voi ci pensate bene, le persone che sanno fare bene quello che fanno, hanno comunque successo e guadagnano. Cioè, perché anche fare un lavoro definito umile, diciamo così, come il pizzaiolo, ma se tu sei il miglior pizzaiolo di Napoli, ad esempio, riuscirai ad avere successo comunque. Comunque, e non ti costerà fatica. Perché dicevo prima, guadagnare soldi con fatica è la cosa peggiore che puoi fare. Certo è che una volta che tu li hai guadagnati, facendo le cose che ti piacciono, devi stare attento alla spesa. Questo è un altro dato di fatto. Il che non significa che devi privarti dell'essenziale, ma non devi neanche nutrirti di superfluo, perché le persone che si nutrono di superfluo, praticamente, hanno... Le persone che si nutrono di superfluo si nutrono di frivolezza. Uno può guadagnare anche... Ci sono persone, ad esempio, basta sentire, non lo so, mi viene in mente Mike Tyson. Mike Tyson credo che sia stato, a suo tempo, uno degli sportivi che guadagnava di più. Ha guadagnato, non lo so, milioni e milioni di dollari Mike Tyson, ma ne guadagnava milioni e ne spendeva altrettanti, anzi, ne spendeva di più di quelli che guadagnava. E allora puoi anche guadagnare quanto ha guadagnato Mike Tyson. Infatti Mike Tyson è finito in fallimento. Adesso si è ritirato su perché con, diciamo... Perché con la maturità, diciamo, è riuscito a tirarsi su. Ma ci sono anche personaggi che hanno guadagnato tanto, calciatori, beh, me ne viene in mente anche che magari cadono in trappole come la ludopatia, ad esempio. Anche calciatore della Juventus, avevo sentito il portiere, adesso non mi viene in mente il nome, che comunque, diciamo, cadendo in sistemi di ludopatia, quindi di gioco, e tu puoi guadagnare quello che vuoi, ma finirai sempre sull'astrico. Quindi bisogna avere il cervello. Il cervello è fondamentale. Quindi le regole sono semplici. Sono, trova, impara a fare qualche cosa. È ovvio che se tu non sei senza arte né parte e non sai fare niente, beh, non riuscirai a ottenere niente. Devi fare, devi sviluppare la tua creatività. Devi sviluppare la tua potenzialità. Sì, è vero, Mike Tyson si è tirato su adesso. È vero, si è tirato su. Mike Tyson si è tirato su adesso. È riuscito in anzianità a fare un percorso. Però Mike Tyson era finito sull'astrico, fondamentalmente. Quindi è riuscito con la maturità a tirarsi su. E ovviamente essendo Mike Tyson è riuscito sempre a tirarsi su. Ma al di là di Mike Tyson, ci sono tantissime persone che invece purtroppo hanno fatto una fine bruttissima, perché sfiniti sull'astrico. Ma quindi le regole semplici quali sono? Devi saper fare qualcosa. Devi saper fare qualcosa. Non puoi essere oggi uno che non sa fare niente. Qualcosa, in qualcosa devi accelere. Che può essere fare video, non lo so per dire. Devi farli bene. Devi bucare lo schermo. Che può essere fare la pizza. Non lo so, ma devi essere il migliore pizzaiolo. Devi comunque... Ovviamente devi fare qualcosa che ti dia una passione. Che ti dia una passione. Perché se tu non hai una passione, quindi coltiva una passione. Utilizza questa passione e se tu lo fai guadagnerai per forza. Guadagnerai per forza. Magari non diventerai Jeff Bezos, ma guadagnerai per forza. Guadagnerai molto meglio di chi, diciamo, lavora per necessità. E non serve neanche, diciamo, serve veramente la passione. E non ti costerà neanche fatica. Perché non ti costerà fatica? Ciao Roberta Farina. Sarà un piacere farlo. È ovvio che poi, una volta che tu utilizzi, diciamo così, e riesci a guadagnare sulla base delle tue passioni, sulla base delle tue capacità, devi imparare a avere uno stile di vita morigerato. Stile di vita morigerato. Esatto. Ci sono delle sciampiste che vengono a parte di aero. Ma sì, ma se ti piace fare la sciampista, va benissimo anche quello. Va benissimo anche quello. Però poi devi imparare a gestire i soldi. Perché ci sono persone che non sanno gestire i soldi. Ora, gestire i soldi non vuol dire spendere gli investiti. Perché, come dire, se uno, e molte donne purtroppo lo fanno, spendono i soldi investiti. Ma per carità, avere uno, due, tre vestiti che siano vestiti validi va bene. Ma avere lo shopping compulsivo è veramente deleterio, è veramente nefasto. Perché puoi spendere tantissimo, no? Ci sono donne che magari si spendono, si spendono, che ne so, si spendono 50.000 euro. Cioè, bisogna investire né vestiti né borse. Bisogna investire neanche in auto. Gli investimenti giusti sono, ad esempio, sia finanziari, magari in immobili. queste sono le cose migliori. Cioè, fare degli investimenti che ti possano rendere. In qualche modo, fare investimenti che ti possano, o perlomeno, che non siano delle perdite. Ovviamente, passare il tempo a spendere, per carità, non sto dicendo che uno non deve spendere soldi investiti in borse e scarpe. Però, tenete presente che spendere i soldi investiti in borse e scarpe, ti porterà ad essere povera. Perché, ti puoi comprare la scarpa da 10 euro, da 20 euro, da 50 euro, o ti puoi, ebbè, appunto, ma il fatto che spendi troppo, vuol dire che non sai, che, vuol dire che non sai procurarti emozioni diversamente. Cioè, le emozioni, non dobbiamo procurarcele. E' lo stesso discorso che vale per, e lo stesso discorso che vale per, per tutto il resto. Noi dobbiamo, noi dobbiamo, diciamo, fare degli investimenti, non fare delle spese. Le spese, certo che dobbiamo farle, ma devono essere spese, intanto, come dire, puoi comprarti un paio di scarpe, due paio di scarpe, ma avere 50 paio di scarpe da 1000 euro, vuol dire che c'hai 50.000 euro buttati in paio di scarpe, no? Perché, le scarpe, che una volta che ne hai comprato una, o due paia, o tre paia, diciamo, di qualità, poi, puoi anche usare altre paia, altrimenti, altrimenti, li butti soltanto, altrimenti, li butti soltanto. Cioè, sono soldi buttati, no? Perché, tu ti compri le scarpe da 500 euro, faccio un esempio, e poi, quelle scarpe da 500 euro, due giorni dopo che le hai messe, valgono più niente, no? Ma è anche un po' il discorso, quindi, questo è fondamentale, imparare a fare, ed è una questione semplicemente mentale. Beh, il fatto di essere stata viziata da piccola è un grave errore, no? Questo è un grave errore educativo, da cui bisogna imparare a venire fuori, perché le persone viziate, tra virgolette, da piccola, dai genitori, sono dei falliti, normalmente, a meno che non riescono a fare un percorso. Quindi, questo è un concetto fondamentale. La libertà finanziaria, non è che è tutto nella vita, ma è comunque, ma è comunque importante, è comunque importante. ci sono persone che non riescono ad accumulare soldi, guadagnano, tanto guadagnano, tanto devono spendere. Questo è un qualcosa di compulsivo, fondamentalmente. Ci sono persone che fanno, diciamo, ebbè, ma il figlio è un errore, è un altro grave errore, spendere soldi per i figli, è un altro grave errore. Il tuo figlio deve avere quello che gli serve, ma poi deve guadagnarsene le cose. Questo, so che è vituperato anche Bill Gates, però, persone che spendono per i figli, fanno un danno enorme ai figli, perché, è come raccontare, perché non gli danno modo di, non danno modo a loro di apprezzare, intanto non gli danno modo di apprezzare quello che hanno, e non gli danno modo di crescere. E come quello, la famosa metafora, no, che la farfallina che voleva uscire dal bozzolo, e il contadino che per aiutarla, gli allarga il buco, la riesce, ma cade, perché non si è fortificata le ali. Quindi, è assolutamente errato, diciamo, è assolutamente errato. I figli devono arrangiarsi da soli, devono guadagnarsi le cose da soli, ma essere iniziata da piccoli, è un grave errore, ma dobbiamo, bisogna imparare, uscire fuori da questa situazione. Bisogna imparare. Il successo lascia delle tracce. Le persone, tenete presente che le persone che hanno successo economico, finanziario, non sono fortunate, sono persone che hanno seguito un criterio. Ripeto, non tutti diventeranno Bill Gates, ma tutti possono avere una loro, come possiamo dire, libertà finanziaria. Non tutti diventeranno Bill Gates, non tutti, ma se segui, come dire, se hai la mentalità giusta, perché è la mentalità giusta che ti fa guadagnare. Ripeto, non tutti diventeranno Bill Gates, non tutti diventeranno Jeff Bezos o Elon Musk, però possono diventare persone che hanno successo. Anche se il figlio ha sei anni, non devi, il figlio che ha sei anni, ovvio che non deve andare a lavorare a sei anni, ma deve imparare, hai proprio il valore del denaro e lo impara a sei anni. Se tu a sei anni gli compri tutto quello che lui vuole, non gli stai facendo un favore, gli stai facendo un danno, perché genererai uno che non sa, gli genererai un adulto fallito finanziario, sinceramente, perché anche un bambino di sei anni, diciamo, certo gli farai il regalino, gli farai la cosa, ma non deve pensare che vuole una cosa e c'è qualcun altro che gliela dà, perché deve imparare e comunque vanno messi dei vincoli, i vincoli vanno messi sempre, anche nell'educazione, vanno messi sempre nell'educazione. Al bambino o al ragazzo che ti chiede la Playstation e tu gli dici, rimani promosso con la media del 9 e ti compro la Playstation. Non rimani promosso con la media del 9, fa un culo alla Playstation, non te la compri, te la comprerai la prossimo anno, quando sarai rimasto promosso con la media del 9, per dire, adesso magari con la media del 9 esagerato, però per dire, quando hai dato ampie dimostrazioni, che diciamo, che ti sta impegnando, cioè, non deve essere regalato nulla, questo è il concetto, anche ai figli, non deve essere regalato nulla, tutto quello che gli viene dato devono guadagnarselo, ovviamente con le potenzialità che hanno, ovviamente un bambino di 6 anni si dovrà guadagnare con l'impegno a scuola, con l'impegno in quello che fa, insomma, nell'aiutare i genitori in qualche modo, compatibilmente con i 6 anni, nel rispettare i suoi impegni, allora può esserci un rinforzo positivo, ma un rinforzo dato così, dare le cose pro bono, è sempre sbagliato, non è mai educativo, a 6 anni dovrà mettere l'impegno di un bambino di 6 anni, a 15 anni, quello di uno di 15, questo è un qualcosa di fondamentale, ma anche i libri, non vuol dire che i libri ne abbia in zeffe, i libri, devi comprane uno di libro, e deve leggerlo, perché se tu li compri 50 libri e non ne legge neanche uno, non conta un cazzo, non conta niente, i libri sono come tutte le altre cose, tu ne compri uno e lui lo legge, quando l'ha letto, gli compri il secondo, quando ha letto il secondo, gli compri il terzo, ma ci sono genitori che pensano che comprare i libri e metterli in uno scaffale, ma adesso faccio l'esempio dei libri, ma potrebbero essere gli ebook, non serve assolutamente a niente, perché comprare i libri e non leggerli, non serve a niente, se tu hai un libro e te lo leggi, allora serve a qualcosa, e allora dopo te ne compri un altro, e questo è fondamentale, comprare cose che poi non si usano, non serve a niente, ma questo vale per tutte le cose nella vita, uno deve imparare a collegare, ovviamente il regalo più grande che si può fare a un bambino, è quello di insegnargli a sviluppare la propria creatività, a sviluppare i propri talenti, perché ricordatevi che nel percorso di crescita personale c'è il matto, il matto è il numero zero dei tarocchi, adesso non ho qua le carte dei tarocchi sotto mano, ma il matto è il numero zero, è quello che ci dice, il matto è quello che ci dice che praticamente noi tutti abbiamo dei talenti, soltanto che il matto ha i talenti nascosti e non li vede, ce l'ha nel sacco dietro e non li vede, quindi dobbiamo imparare a sviluppare i nostri talenti, ecco queste sono le cose fondamentali, ho fatto una live già un po' più lunga, un po' più lunga del solito, potrei anche andare avanti, ma magari se piace questo argomento ne farò altri, perché le cose da dire sono tante e andrò avanti successivamente, se l'argomento vi interessa scrivetelo nei commenti, così la prossima live andiamo avanti su queste tematiche che sono tematiche diciamo di crescita finanziaria, ma che poi la crescita finanziaria e anche la crescita personale, non c'è differenza tra crescita finanziaria e crescita personale, quindi bene, un saluto a tutti e al prossimo episodio